Ciao, sono Nadia Montenovo e sono qui per presentarvi il mio primo singolo, Il ritmo di me. Il ritmo di me, è il ritmo di me, è il ritmo di me. Questa canzone è il primo pezzo che scrivo e racconta un po' di me, della mia storia, diciamo, e della mia necessità di esprimere con il canto la mia passione per la musica. E anche la necessità di esprimere il fermento interiore, per cui ho preso carta e penna, ho iniziato a tracciare una mappa dei miei pensieri e delle mie emozioni. E così ho dato voce al mio ritmo, sperando che anche voi mi ascoltiate e sia anche per voi un punto di partenza per esprimere il vostro ritmo. Buon ascolto a tutti. E essere tutto quanto è parte di me Buon ascolto a tutti.